Prima che tu vada nella segreta, vorrei raccontarti di come Letto e i suoi sono arrivati ad Avalar. Bene, la settimana scorsa nella tundra d'inverno, il professore stava lavorando a dei nuovi superportali. Ecco, l'ultima sera ora è a posto. Vediamo, ci servono solo delle coordinate. Sì, tipo 22475, è il mio compleanno. No, anche no. Cosa? Lasciatemi, lasciatemi, inutili buffari! Perché nessuno di voi dove siamo? Mh, niente draghi, fantastico! Crash, torna a prendere le valigie! Ci fermiamo qui! Salutate il vostro nuovo re! Professore, lo spenga! Presto! Oh cielo, oh cielo! Non vedo l'interruttore! Devo di essermi rotto gli occhiali! Crash, attraverso il portale, idiota! Diveni tu, mia amica, e di spargere le sfere in tutta Avalar! Presto! No! No! Crash, prendete subito le sfere! No! Piccola creatura spregevole! Ti annienterò! Che pessime notizie per Avalar! Hunter, perché non l'hai inseguito? Oh, ecco, io volevo inseguirlo, ma sbaglio o ha detto che non gli piacciono i draghi? Professore, se catturassimo apposta un drago? Sì, sì, penso di sì! Avremmo bisogno di un mondo con un allenamento più adatto a intercettare simili creature! Che ne ditevi, Barlume?